E' stato presentato nello spazio porto di Taranto il docufilm Flegrea, un futuro per Bagnoli, un interessante progetto audiovisivo e fotografico che vuole raccontare la storia di Bagnoli, un quartiere della periferia ovest di Napoli e dell'ex sito industriale dell'Ital Sider. Tamburi e Bagnoli, un legame forte lega i due quartieri e le loro città, segnate per sempre dalla presenza di poli siderurgici con le inevitabili conseguenze sociali e sanitarie. Il docufilm racconta la storia di Federico e Ciro, due fratelli cresciuti nel quartiere napoletano che dovranno prendere una decisione, quella di restare lì oppure andare via in cerca di un futuro altrove. Per noi era cruciale cercare di riportare lo sguardo all'altezza del cittadino, di riportarlo al presente e soprattutto di cercare di raccontare come questi territori non siano territori soli isolati ma che vi sia per l'appunto un'unione tra Bagnoli, Taranto e mille altre aree industrializzate d'Europa. Abbiamo cercato di portare il nostro sguardo su questa vicenda e pensiamo che sia fondamentale ogni giorno continuare a raccontare quello che è la vita al di là della fabbrica e quindi la vita dei quartieri, dei suoi abitanti e del legame silente che vi è ogni giorno tra una crisi ambientale e una crisi sempre più sociale. Oggi siamo venuti da Bagnoli, un quartiere di Napoli, un quartiere che con Taranto ha condiviso un'eredità legata alla deindustrializzazione, un processo ancora in atto che non riesce a dare risposte alle domande delle persone che vivono questi territori soprattutto su un'idea di futuro diversa. Flegrea è un futuro per Bagnoli, è la storia di una comunità che non si arrende e che vuole fermare l'inesorabile emigrazione di giovani in cerca di un futuro migliore lontano dalla propria terra. Siamo stati molto contenti circa due anni fa di essere contattati per l'appunto da Tutore e gli altri per fare delle riprese a Taranto che riguardano la questione ambientale, ecologica e la fabbrica e i territori colonizzati che soffrono di questa situazione abbastanza violenta sul territorio e sulla cittadinanza. Li abbiamo supportati nella costruzione di queste riprese a Taranto e siamo felici di poter finalmente presentare questa proiezione anche a Taranto. Spesso ci dicono che la popolazione deve essere fiduciosa e silente, lasciar lavorare ma sappiamo purtroppo con la storia di Bagnoli che non sempre lasciar lavorare vuol dire avere un futuro, anzi Bagnoli è una ferita, è un vuoto ma purtroppo come Bagnoli e come anche Taranto ne esistono tantissime in tutta Italia. Noi sappiamo che bisogna invece osare inventare l'avvenire, osare riprenderci il protagonismo che come abitanti, come esseri umani, come persone che vivono in questo pianeta dobbiamo riprenderci sui nostri territori.